Mi chiamo Akiko, sono una discepola di Baba Yogi, sono qui perché devo partecipare per forza a un addio al nubilato, in realtà le mie amiche non è che vi stanno proprio simpatiche però ci tengo molto perché sapete Chiara sarà una squadra fantastica, per cui sono qui e spero che non durerà per molto, sono con il mio maialino che si chiama Pugia e che spero non farà troppi capici, buona visione, ciao!